Cari amici sono Emiliano Babilonia, cavia umana dei servizi segreti italiani dal 10 febbraio del 2001 dopo un anomalo fermo della gendarmeria di Roma. Sto facendo vedere su questa foto una postazione satellitare del sistema MK oltre controllo mentale. Adesso partirà il video dell'arma di energia diretta che è stata montata prima sulle navi da guerra come sistema sperimentale e questa stessa identica tecnologia è stata montata sia sui satelliti spia sia in tecnologia sperimentale sui droni e sugli aerei ma l'attestazione della tecnologia che viene sperimentata sul nostro corpo è sperimentata attraverso il satellite spia che sta al nord Europa che ci vede con telecamere termiche a scansione sintetica a raggi X dentro casa e effettua una mappatura fisiologica appuntamento in arma di energia diretta che spara le frequenze a microonde, le frequenze ultravioletti, le frequenze del dolore sul nostro corpo e crea gravissime patologie fisiologiche e psicologiche attraverso un elettroincepalografo transcranico satellitare ovviamente l'arma deve vedere dentro casa dove noi stiamo poi focalizza sulle nostre parti del corpo e poi spara la frequenza attraverso un sistema tracciante e un sistema GPS e un sistema di localizzazione satellitare www.sing.動 suit.info www.sing.gov.argie URU